No Ma la zoom non c'è qua? Sì, è quello qua Giacomo, giratevi ora Dai, aspetta Gira, gira Giava il palo Era un video Ma il cane No, c'è un canetto Oddio il cane A portarlo lì Se mi scappa via Ma più caldo se si butta lì sotto E' simpatico comunque Si vede tutto dietro cosa abbiamo Non lo so Certo, non credo così la vostra Eh?